secondo lei esistono queste streghe la prova è che se ne trovano sempre di nuove chissà quanti poveri canacchi come l'era mai l'ignoranza una volta è questo le streghe persone normali male vette dai preti e dai fra erano donne diverse fatali che su rodo veniva in brucia in Pontronga restò su la testa da San Carlo eh sì il corpo e la mitraglio e la testa l'è restata bagai e bagai grande perché bagai proprio e la porterà al San Carlo e il dovrà fare bersaglio la testa tutto il corpo e restò da me la testa razzucca